Sono Andrea De Satti, sono nato e vivo a Roma, anche se ho vissuto in altre regioni anche all'estero. Sono nato una 77, ho 55 anni, sposato, due figli, due cani, che sono anche quelli che mi accolgono con entusiasmo quando torno la sera a casa. Un ruolo fondamentale per me è avuto lo sport agonistico. Come agente di polizia io mi allenavo con le fiamme oro e facevo pentatrono moderno, che ha nuoto, corsa, tiro, scherma, equitazione e salto ostacoli. Per me è stata un'esperienza fondamentale, non solo perché mi ha permesso di vincere dei titoli nazionali e partecipare a campionati internazionali, che però non ho vinto ovviamente, ma soprattutto perché mi ha insegnato a capire i miei limiti, fisici, caratteriali, tecnici, e mi ha insegnato che non bisogna trovare scuse, che bisogna cercare di tirar fuori il meglio da se stessi. E questo è un approccio che mi serve nella vita e soprattutto nel mestiere d'attore.